E ora vi portiamo a Cesenatico, dove lo sport e terapia aiuta a superare il disagio mentale. Parliamo di matti per il calcio e lo facciamo grazie a Luca Cardinalini. Non ci saranno campioni, questo no, anche se poi bisognerebbe mettersi d'accordo su chi sia un campione. Se di umanità, allora ce ne sono parecchi. Matti per il calcio ha età adolescenziale, 14 anni, e visione da adulto. Occhio e mente puntati non sulle scuole calcio, ma sui centri di salute mentale di tutta Italia. Già, si gioca anche lì. Formazioni più che miste, composte da pazienti, medici, infermieri, educatori, volontari. Tutti ovviamente calciatori e compagni di squadra. Di che ruolo giochi tu? Sono fascia sinistra, difensore. Laterale sinistro? Sì. Come quadrado? Sì, con educatori principalmente. Che diventano però compagni di squadra, non sono? Non sono educatori, in quella veste sono compagni di squadra. La parte della risocializzazione e terapeutica comunque dello sport la vivo di più adesso che sono parte integrante della squadra. C'è una giocatrice con loro a tutti gli effetti, perché comunque con loro non sono un'operatrice, non mi pongo come tale, perché non lo sono. Sui campi di Gatteo Ammare si sfidano nove squadre, dai nomi che rimandano ad altro. Va pensiero, mille voci, anche se il campo non fa distinzioni e discriminazioni. Nasconde storie personali e collettive. Più sport sociale di questo, difficile anche solo immaginarlo. Il calcio, lo sport sociale, come piace definirlo a noi, sicuramente è un grande strumento, potremmo dire, terapeutico. Spesso affianca le medicine. Un calcio che rappresenta una promozione della socialità, dell'aggregazione, dello stare insieme. Un calcio che è prevenzione e promozione della salute. Qui non si gioca per interesse, l'unico è il benessere psicofisico. E vincere non è affatto l'unica cosa che conta, anche se perdere non piace a nessuno. Ci sarà una classifica finale, un vincitore e nessun perdente.